Le liti sono la rovina dei litiganti. L'avvocato Tommaso da Caponago nel 1448 fece apporre una targhetta con questa frase sulla scalinata di quello che allora era il Tribunale di Milano. E questa frase è diventata un po' il simbolo di Caponago. Noi siamo con il primo cittadino, siamo con Monica Buzzini, benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E allora la prima domanda è proprio questa. Lei condivide questa frase, d'accordo? Eh, assolutamente sì. Le liti sono davvero complicate perché non arrivano mai a una conclusione. E quindi Tommaso da Caponago aveva sicuramente molte ragioni. Tanto è vero che la scritta è ancora sul Tribunale di Milano, no? Eh, ci ha preso, insomma, questo Tommaso da Caponago. Ci ha preso. Insomma, sono quasi dieci anni di amministrazione. Forse questo lavoro che più di altri mette a confronto con dei lati di se stessi nuovi, quando si comincia a fare questo lavoro. E quindi lei ha quasi dieci anni di amministrazione, come si definisce? Litigiosa o più conciliante? No, più conciliante. Anche se amo molto le regole. Credo che le regole siano importanti per il convivere in una democrazia. Sono necessarie, alle volte faticose da mantenere per tutti, non solo per alcuni. Però le liti in sé, no, non sono il mio essere, non mi piace. Preferisco più mettersi insieme e provare a capire se si riesce a risolvere la situazione. Però con determinazioni, mi sembra che sia una che vuole arrivare dove in niente. Devo dire che soprattutto per quanto riguarda le regole ci tengo molto perché credo che sia il rispetto di tutti i cittadini allo stesso modo. Siamo tutti in effetti uguali. Poi la legge spesso non è uguale per tutti perché comunque non siamo noi a decidere direttamente. Però sulla regola io sì, sono molto fiscale, devo essere onesta. Si capisce? Si capisce. Allora, senta, noi siamo stati a Caponago, abbiamo sentito i suoi cittadini che hanno parlato bene con qualche critica su Caponago. Vuole sentire cosa hanno detto? Assolutamente, sì, senza le critiche non vivremo. Andiamo. Il paese, mi prendo il mio giornale, bemo un caffè. Un bel paesino, tranquillo, c'è brava gente. Sicuramente credo che a livello di territorio sia uno dei paesi più belli. Un bel quartiere, un bel paesino, mi trovo bene. Sono nato a Caponago e vivo a Caponago e sto bene perché a me mi piace la tranquillità. Io ho la figlia, vive all'estero, a Nizza. Quando vado là è bello, però a me mi stanca subito, troppa gente. Venendo da Milano proprio qui sei nella pace degli angeli. È chiaro, vivere in una città è sempre più caotica, invece qui è tutta un'altra cosa. È un paesino dove praticamente da quando erano piccolini tu li potevi lasciare liberi e sapevi comunque dove andavano, cosa facevano. Questo era il bello del paese piccolo, diciamo. Poi dopo una certa età si mancano delle necessità, più che altro per loro è normale. È tranquillo, molto curato, quello si è pulito, non ci si può lamentare per il resto. L'unica cosa è un po' più di servizi. Le uniche cose che mancano dal mio punto di vista sono i mezzi di trasporto. Non hanno un campo da calcio come si deve. Abbiamo un oratorio praticamente chiuso. Abbiamo delle strutture, alcune strutture pubbliche che non vengono utilizzate per la comunità. Hanno tolto parecchi parcheggi e quindi la gente prende più multe che altro. Almeno per i pensionati ci hanno messo le panchine. Vabbè, al di là della battuta finale, che cosa dice? Abbiamo alcuni punti, abbiamo parcheggi, attività per i giovani, abbiamo insomma un po' di cose. Cosa risponde? Allora, le critiche sono sempre importanti perché aiutano a migliorare dove eventualmente ci sono delle problematiche. Per quanto riguarda il trasporto pubblico condivido in assoluto quello che dice la cittadina. In effetti è una nota dolente di Caponago che purtroppo è un po' ai confini fra la provincia di Monzebrianza e la provincia di Milano. E quindi questo crea nel TPL, che è il piano che fanno poi in regione per il trasporto, una criticità. Poi, per quanto riguarda le strutture sportive, in effetti è una cosa che Caponago paga per una politica antica di scelte diverse fatti negli anni. La politica è una cosa importante perché quando si fanno le scelte poi queste cose arrivano anche sulle future generazioni. In effetti non abbiamo noi direttamente un campo da calcio, ma è stato ai tempi costruito all'interno dell'oratorio. Quindi questo è gestito direttamente con l'oratorio, non è una gestione comunale. Per quanto riguarda la nota sugli spazi pubblici non utilizzati, secondo me non utilizzati per come intendono chi lo dice. Perché in effetti non ho spazi pubblici chiusi. Ho spazi pubblici come un centro sportivo che è stato dato tramite una convenzione alla società FONAS, che è oltretutto quella del paese, e che la gestisce per come crede meglio con tennis, paddle, eccetera, eccetera. Quindi non è chiusa, non c'è nulla di chiuso a Caponano. Per i giovani, allora, i giovani è più difficile perché qui invece spesso non si vede quello che c'è. Perché la mia amministrazione ha fatto molto per questa cosa, abbiamo speso sempre molte risorse, però i ragazzi passano, vanno, non è che rimangono. Quindi anche se ultimamente, devo dire, è nato questo nuovo gruppo che si chiama Capogiro, che è Cultura Vicino, e sono dei ragazzi che stanno in questo momento lavorando con l'amministrazione, con cui faccio dei progetti, proprio anche degli eventi, tipo adesso il 2 di giugno inauguriamo un nuovo pezzettino di paese che restituiamo alla cittadinanza e l'ho fatto con loro. Quindi spesso non si vede che è diverso. Ecco, allora io spero che qualche ragazza o ragazza che abbiamo intervistato stamattina stia ascoltando, le attività ci sono, quindi mi raccomando, loro chiedevano una discoteca. Mi hanno detto, dica al sindaco che vogliamo una discoteca. Una discoteca è sicuramente un'attività privata e io come ente pubblico farò una discoteca. Però io riporto quello che mi hanno chiesto. Però sto organizzando degli eventi che sono un po' più di fascia, diciamo, alta come età, però insomma cerchiamo di fare il nostro. Non è facilissimo perché il paese non è grande, quindi adesso spesso ci si aspetta eventi molto importanti prima di andare. E non è facilissimo, però insomma nel nostro piccolo cerchiamo di fare il possibile, per quello che crediamo giusto. Allora, tante cose le abbiamo già dette e come ho già detto all'inizio, questo è il suo ultimo anno di mandato dopo quasi dieci anni di amministrazione. Lei si era candidata con la lista rinnovamento 2.0. Ce l'ha fatta portare questo rinnovamento? Allora, io arrivo da un percorso un po' più lungo. Io facevo l'assessore prima di fare il sindaco. Io credo che un po' di rinnovamento sì, c'è stato. C'è stato nelle persone che hanno lavorato con me anche proprio per la visione dell'amministrazione, cioè vicino ai cittadini, ma non tanto la classica frase che si dice, ma comunque veramente abbiamo degli uffici molto disponibili anche su quella parte, insomma sempre non hanno problemi a relazionare con i cittadini, cerchiamo di non lasciare davvero indietro nessuno. Certo, se quando si risponde no non va mai bene, cioè se io rispondo no a qualsiasi richiesta è ovvio che poi quello che fa il comune dice il comune non va bene. Spesso la risposta no è dovuta, non è sempre possibile dire di sì, però credo di sì, nel mio piccolo. Certo, e abbiamo invece qualche progetto in itinere? Allora, i progetti sì, noi ne abbiamo messi in campo molti, li avevamo messi in campo col secondo mandato, ovviamente il Covid ha fermato due anni di amministrazione e onestamente non è poco, soprattutto in un'amministrazione pubblica, però devo dire che piano piano stiamo un po' arrivando alla fine di progetti importanti, uno lo facciamo, inauguriamo il 2, le anticipavo prima, il 2 di giugno, facciamo questo pezzettino in più di paese ridato alla cittadinanza e poi ho un progetto che vorrei riuscire a mettere almeno in essere, parlo di parte pubblica, perché anche per la parte privata ci sono dei progetti importanti, aziende che stanno arrivando sul territorio, quindi che metteranno a posto pezzi di paese, perché la nostra visione di amministrazione era guardare il paese dall'alto, cercando di mettere a posto i pezzi di paese, non solo i pezzi di marciapiede. Credo che questo siamo riusciti a farlo, forse un parco nuovo riuscirò perlomeno a progettarlo e cominciarlo, poi dopo non toccherà più a me, va bene. Sì, perché ci sono più di 5 mila abitanti, quindi... Ci sono più di 5 mila abitanti. Poi tra l'altro tra le persone che abbiamo intervistato, più di una ha detto di essere appena trasferita a Caponago, c'è anche un movimento verso Caponago, quindi piace. Sì, è un paese sicuramente che dà tranquillità, l'abbiamo sentito da quasi tutti i cittadini, in effetti è così. Tranquillità e anche sicurezza, che magari non si è sentito benissimo nell'intervista, però si è parlato anche di sicurezza. Sì, perché abbiamo, devo essere onesta, abbiamo un impianto di controllo veramente innovativo, è molto molto importante, abbiamo investito molto su questo. Bene, allora noi stiamo in chiusura, le faccio un'ultima domanda un pochino più simpatica, che voto si dà per questi quasi dieci anni. No, 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 non mi piace darmi i voti, non mi è mai piaciuto, non mi piace giudicare gli altri in genere e non mi darei un voto. Spero solo di aver fatto il meglio, perlomeno ho cercato di fare il meglio per quello che credevo giusto. Poi sicuramente tutto, tutto non sarà piaciuto, però se è quello che ho fatto l'ho fatto convintamente perché credo che sia giusto. Bene, bella risposta. Grazie sindaco. Grazie a lei. Grazie, arrivederci, noi ci vediamo a settembre e torneremo con Unica Talk Monza. Grazie a tutti.